Quello all'inizio del XXI secolo fu un periodo di forti turbulenze in seno al mondo listografico che portò alla formazione di correnti sperimentali in opposizione all'establishment artistico, la più importante delle quali fu quella europea dei disfunzionalisti. Tale corrente nacque come risposta a una omologazione degli stilemi compositivi che si stava affermando nel circuito listografico principale, complice un'aumentata produzione di liste della spesa, conseguenza della proliferazione dei centri commerciali in atto in quegli anni. Tra i componenti del gruppo dei disfunzionalisti ci fu un fiorire di esperienze dirompenti che si tradussero in un approccio compositivo radicale, orientato a svuotare le opere da qualsiasi finalità funzionale per riappropriarsi di quella libertà creativa che si riteneva smarrita. Questa radicalità compositiva si tradusse in lavori dall'intensa carica sovversiva, nei quali l'artista esplorava nuove frontiere espressive, spesso accanendosi sulla superficie pittorica con squarci, lacerazioni, imbrattamenti, a voler affermare il valore della lista come oggetto creativo individuale e fine a se stesso, senza alcuno scopo pratico. Ecco dunque che la lista 37, opera dalla notevole energia cromatica e pervasa da una sottile ironia, contraviene programmaticamente alle più basilari regole listografiche. In spregio a un utilizzo razionale dello spazio a disposizione, l'autore dilata all'estremo le cinque voci spalmandole sulle due facciate del foglio. Le stesse voci non risultano altro che una cozzaglia incoerente di soggetti merceologici disposti per la tela cardacea con dissacranti anarchia e destinati, nella seconda facciata, a subire un tracollo dislessico. Come se non bastasse, anche il trattamento inferto al supporto cartaceo, tagli, pieghe, sporcizia, snatura polemicamente questa creazione tramutandola, da semplice lista della spesa a oggetto artistico feticcio. Grazie. 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 Grazie.